Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dilan Dog serie regolare. Oggi parliamo insieme di Dilan Dog 449, la misura del mondo, sceneggiato e disegnato dal compianto Carlo Ambrosini. Mentre faccio questo video, ho appena letto stamattina finalmente questo numero, ho anche saputo della morte del creatore di Martin Mistera, Alfredo Castelli. Che si unisce alla schiera di autori bonelli che ci hanno lasciato negli ultimi tempi a pochissima distanza l'uno dall'altro. Esattamente come Tiziano Sclavi scrive in questo trafiletto di condolianze, ha citato anche Montanari e Luigi Piccato. Questo numero è il 449, il che significa che della serie regolare, escludendo i miei video sui Retro Dilan, sui Colorfest e sugli Oldboy, sono 50 video che ho fatto su Dilan Dog serie regolare. 50 video e inizio un pochino a sentirli. Non so, non credo che leggerò Dilan Dog per tutta la vita. Non penso di arrivare a Dilan Dog 500 comprando Dilan Dog ogni mese. Non so nemmeno se avrei lo stesso gusto a farlo di quando ho ricominciato a provare Passione per Dilan Dog, ovvero nel 2016 quando c'è stato il trentesimo anniversario, o il quarantesimo, no il trentesimo. Quindi non lo so, non vorrei mai che l'unico motivo per cui io legga Dilan Dog diventi il canale e i video che faccio per il canale. Ora non sto dicendo che questa cosa avverrà dal prossimo mese, perché sono molto interessato al momento, alla testata regolare di Dilan Dog, però sicuramente arriverà un momento dove io selezionerò i Dilan Dog dell'anno e parlerò dei migliori. Il punto è che io come faccio a sapere quali sono i migliori senza leggerli? Magari, se volete suggerirmeli, io attendo il vostro consiglio per prendere il Dilan Dog e parlarne insieme. Ora, bando alle ciance, parliamo della storia e dei disegni dopo la sigla. E' già dalla copertina che richiama l'arlecchino, personaggio che ha già usato Ambrosini in altre sue storie, che ho subito collegato questa storia, La Misura del Mondo, a un'altra storia che avevo apprezzato davvero tanto, che è I Padroni del Nulla. Se non sbaglio, non sono andato a vedere la mia recensione, ma se non sbaglio, già allora avrei voluto un sequel di questa storia. Ora, La Misura del Mondo non è un vero e proprio sequel dei Padroni del Nulla, è semplicemente una storia ambientata nello stesso universo, non mi riferisco all'universo di Laniato, ma all'universo di Carlo Ambrosini. Mi ricordo anche che ai tempi, quando uscì I Padroni del Nulla nella serie regolare, ci fu una citazione al Colorfest di quel trimestre che parlava invece di Mr. Punch. Quindi, arlecchino, Mr. Punch, tutti i burattini. Ho apprezzato davvero tanto in quel periodo questa liaison tra le due testate, che non posso che unire anche a questo numero. Allora, la storia è molto molto particolare, esattamente come dice anche Barbara Varaldi nel suo editoriale, è fondamentalmente, sembra uno di quei sogni che fai poco prima di essere totalmente sveglio, quando ti sei appena riaddormentato la mattina e fai uno di questi sogni un po' lucidi in cui alcune cose non sono chiare. Lo si capisce già dei disegni dove all'inizio ci sono Dylan e Block che parlano in una vignetta e sembra quasi che ci sia un altro Dylan che li stia guardando. In un'altra tavola più avanti sembra ci sia la stessa cosa, ma in realtà è uno specchio che riflette Dylan e Lu, o Liu, scusate se pronuncio male, e ricorda molto quella tavola all'inizio, vedete? Questo è uno specchio e qua ci sono i protagonisti. La storia appunto parla, questo titolo, La misura del mondo che sembra un titolo così altisonante, in realtà parla di questa persona nata con una misura diversa da quella standard, da quella della conformità a cui siamo abituati, è una persona affetta da nanismo che è stata abbandonata da piccola e a sua volta pare abbia avuto un figlio che soffre di nanismo anche lui, ma soprattutto questa persona sembra un vero e proprio squilibrato. Non... persino dall'inizio della storia non c'è assolutamente nascosta questa cosa, tant'è che tutti iniziano a sospettare di lui. Non c'è mistero in questo, semplicemente il mistero è scavare nella testa di questo pazzo per capire dove vuole andare a parare. Quindi è un po' un viaggio psichedelico nella mente di questo folle. Nonostante sia chiaro comunque a tutti che il bambino sia stato rapito appunto da lui e non si capiva bene cosa ne volesse fare, semplicemente questo folle si è rivelato un pazzo totale che fondamentalmente voleva uccidere chiunque, persino il suo stesso figlio, la sua stessa moglie, tra l'altro moglie che non so se ci avete fatto caso, ma è stata anche la sua sorellastra. Cioè la sorella adottiva è diventata sua moglie. Nessuno l'ha puntato il dito su questa cosa, ma ok, pensavate che non l'avevamo notato, ma l'abbiamo notato. Quindi ci sono stati un sacco di omicidi e fondamentalmente è stato appunto un viaggio delirante in questa storia fantastica, nel senso proprio che è un racconto fantasy, un racconto fantastico, disegnata con il classico stile di Ambrosini che molti non capiscono. Io ho letto tanti commenti anche sotto alla pagina Facebook ufficiale di Sergio Monell'editore su Dylan Dogg, dove molti commentano storia bella, storia media, storia discreta, gusto personale, e i disegni no, non ci siamo, i disegni no, non ci siamo. Ora, gusto personale è la storia, gusto personale è anche i disegni, ma dal dire i disegni non mi piace questo stile di disegno su Dylan Dogg, a dire i disegni non ci siamo, c'è un abisso. Porca puntana. E questo abisso è essere consapevoli del proprio posto nel mondo, nella propria misura nel mondo, ovvero rendersi conto quando è uno stile che non si confà al tuo gusto personale, o non rendersi conto che c'è qualcosa oltre quello che tu decidi che sia un dogma. Dylan Dogg non deve essere assolutamente perennemente disegnato da Brindisi, non è sempre così Dylan Dogg, Dylan Dogg è anche sperimentazione, Dylan Dogg è anche comunicazione oltre al segno pulito, e il segno di Ambrosini così grezzo, così incompleto, se vogliamo dire volutamente incompleto, perché lo stava facendo da molti numeri, è il suo stile, è lo stile che ha raggiunto nell'arco della sua carriera, considerando anche che è un artista completo, cioè che era sia sceneggiatore che disegnatore, quindi doveva fare due lavori, il lavoro della stesura del soggetto, della sceneggiatura, e poi metterla su carta disegnandola. Non è una cosa da tutti, lo fanno in Asia, in mangaka, e fanno sempre una brutta fine perché sono oberati di lavoro. Il fatto che lui riuscisse per sottrazione a darci questi disegni, queste pennellate così grezze che comunque riuscivano a comunicare perfettamente la storia, è un valore aggiunto, non è qualcosa di meno, non ha un valore minore rispetto a un numero di Dilan Dog disegnato perfettamente dove si puliscono i retini. È questo che mi dà fastidio che molti non capiscono, mi dà fastidio da morire, ma non su Dilan Dog, mi dà fastidio in generale, anche su Spider-Man ho letto le stesse cose, ma anch'io ho avuto le stesse remorri quando mi cambiavano i disegnatori di Spider-Man, quando si è passati da John Romita Jr. a Umberto Ramos, ma ci sta se si ha a che fare con la prima volta con un cambio di disegno, ma si presuppone che i lettori di Dilan Dog ne siano abituati a ogni singolo numero, e allora ragazzi, quand'è che crescete? Quando è che la smettete di essere degli adulti vecchi, cioè dei bambini invecchiati e diventate degli adulti? E imparate che se uno stile non vi piace non è perché è brutto, ma perché semplicemente non siete abituati voi? E' un po' quello che si diceva la mamma da piccoli, non si dice che i pomodori fanno schifo, si dice che non ci piacciono. Sta cosa a me fa bollire il sangue nelle vene. Ma al di là di questa polemica ho parlato più del contorno della storia che non della storia in sé, perché la realtà di questo numero lo richiedeva, approfittando anche per dare delle mie comunicazioni personali, delle mie riflessioni personali su quello che potrebbe essere il futuro di questa rubrica sul canale. Della storia in sé ho parlato poco, ma direi che è appunto una storia molto lineare, malgrado tutto. Una cosa che forse avrei, che mi aspettavo, sia fin dalla copertina, era la partecipazione del personaggio di Arlecchino. Così come è stata nei Padroni del Nulla, dove aveva quantomeno una piccola interazione con i protagonisti. Qua invece all'Arlecchino di Ambrosini è semplicemente spettatore di quello che succede. E' come uno spirito, un fantasma, lo definiscono anche la morte arlecchiniana di Ambrosini, che la disegna come se fosse questa figura che aleggia attorno ai personaggi, senza davvero interagire. In un paio di occasioni lo stesso Arlecchino guarda proprio in macchina, se così vogliamo dire, guarda verso di noi, verso noi lettori. Più avanti vediamo questo Slim che vede Arlecchino senza maschera, che ha l'aspetto, che ha il suo stesso aspetto, che ha i suoi stessi baffi, o l'aspetto che aveva suo padre, se così vogliamo dire, dato che si assomigliavano molto. E' molto surreale quella parte con l'Arlecchino, è come se appunto, come quando si sogna qualcosa, e c'è sempre un elemento fuori dal contesto a cui non riusciamo bene a collocare. Questo Arlecchino mi ha dato questa sensazione, però mi sarebbe piaciuto vederlo interagire magari come è successo nei Padroni del Nulla. Io vi dico, ho solo tanta tanta voglia di rileggere i Padroni del Nulla, di rileggere Mr. Punch, ed è anche per questo che, quello che dicevo prima, io non so se continuerò a leggere ogni mese di Landog, ogni mese, altri fumetti da edicola regolari, per sempre, perché francamente io che sono un nostalgico, ho tanta voglia e poco tempo per rileggere le cose che ho apprezzato davvero e che ho già letto e che vorrei rileggere. Quindi non lo so. Starò con voi a parlare di D-Landog ancora per molto tempo, ma non per sempre. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, di questa storia, fatemi sapere se avete appunto qualche ricordo professionale verso Carlo Ambrosini, se c'è qualche storia in particolare sua che avete apprezzato particolarmente, fatemi sapere cosa ne pensate di questa riflessione sui disegni. Io solitamente non sono polemico, però mi piace puntualizzare alcune cose, sono solo spunti per farvi riflettere. Non voglio dire che se non li avete apprezzati siete stronzi, semplicemente è così per creare una discussione, per andare un po' oltre. Grazie ancora per avermi seguito fino alla fine del video, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie.